Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A12 alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. In A15 per un restringimento di carreggiata a causa di lavori possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In FIPILI si ricorda che a causa di lavori di alleggerimento e regolazione idraulica è in vigore un restringimento di carreggiata tra Ponte della Est e Ponte della Ovest e Ponsacco in direzione Mare con possibili rallentamenti. Sempre in FIPILI per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!